Prima che non mi vedesse, mi è passato in mezzo ai tuoi volpi E poi c'era Giovanni il Rosso, che a mid se li parlava e loro mi disparavano, che cazzo Comunque, questo poppa non mi piace, ha un po' la ricarica particolare, però... però... ...incomodato e... Più danno! Più danno! Più danno per la tua famiglia Ma, tipo... duemila di danno! Ma, tipo... fai quell'azione quando non si entra ai dodici, che vede, tipo, te ne trovi tre davanti, tipo... Sì, sai, gli fai una raccomandata Eh, però, penso che pure col... col cover strike non la facevo uguale, perchè... ...ma voglia spammare 12 volte, minchia, papà, papà, papà Oh, minchia, ho fatto il poligono in cinquanta...